Questa registra Oh, conti, è una nuova partita Nuova partita Vai Con te le scienze di violenza Oh, con Dio Oh, con Dio Come si gioca? Non lo so Vabbè, ma sta così E per abbassarsi penso questo ufficio Vabbè, lo scopriremo Scopriamo Sciomu C'è un bar, ma guarda Che cos'è? No, ma il bello è che il sciopolo è il baraggio di andarci Certo, ovviamente è normale Che uno si... Questa è la luce, c'è Cazzo di un uomo se lo abbannano Senti, senti 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 Ma c'è il Dio Stato Ma c'è il Dio Stato, eh? Massimo Stai, oh Eh Cagolo un po' che fassi C'è la rodellina più piccola No, 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 c'è il legalizzatore Adesso C'è la rodellina piccolina Mettila un po' poco Basta 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 Oh, zitto, si, oh, si Vabbè, non ci interessa, no? Vedi che la videocamera, questa è importante, le batterie C'è cazzo è pazzo, eh? Hai convinto che sta a prendere La cosa normale Mi sta aggiungendo tutte le camera Non ci sono le batterie Però hai bisogno delle batterie Ma hai visto quella che è passata comunque? Non l'avete visto? Non l'avete visto? Non l'avete visto? Non l'avete visto? Entra qua, qua Ce la fai Ma non mi fa entrare Guarda Oh, la sensibilità è troppo forte Abbassare Sì Sì Bastardo Ok, ok È isto, guarda Oh, mi fai cagare L'ho visto È isto che l'ho visto È isto che l'ho visto Sì Non lo so Perchè Guarda Guarda ea ea vai se vuoi no la luce e c'è la luce della cittadina se c'è un po' non c'è nessuno la città questa musica non c'è nessuno minchia di feto è l'essenza del gioco che schifo un pollo un pollo vai avanti è un culo questo ma no è senza te ma non compare niente ma però si scarica così appunto devi spiegarti che si scarica è la madonna ma tu siete così sfoccati perchè è così ma che bello ma scusa ma hai già l'investigatore ha già visto questo me ne sta rendendo già no 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 aspetta un attimo aspetta un attimo stai sotto dietro no mi viene mostro mica però che è lento qua usci dai hai quella della mi dà mi dà ne che difetto me ne me lato giocate bu no il sinistro come è Leva la cosa Ma quanto blur Eh basta mi fa inceragliola No leva sta cosa Si consuma la batteria Levala Non ti serve No vabbè no Aspetta È un cesso All'oscuro Vai vai Ma che c'è Come è uno stronzo Nessuno c'entra Vedi se c'è una batteria Vedi se c'è una batteria La batteria è dietro nel lavandino Non ho mai avuto pesante Cazzo hai un cestino Vai avanti Esci No devi tornare lì Cazzo Non lo Levala 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 Ah ti ho portato questo Pollo 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 Cazzo 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 Ma io qua ora quello là ti buco Eh qua me la ricordavo pure io Cioè quello lo favo porciolino Ahahahah 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 Ora da qua viene Dove cazzo viene Ora mi devi spiegare Ora mi devi spiegare Dove cazzo viene Ma io qua E' un lutto della fame africa La mucca ma perché sei sfocato si è messa a fuoco io sto mandando questi fumi io mi sembra che ci mette la posizione ma è il tappo dei morti la madre che schifo si sta riprendendo guarda guarda cos'è quella di fuori come nel manicomio che schifo che schifo che piccolo che piccolo che piccolo non lo usare cerca batterie c'era una cosa sbriccita non voglio prendere esci dal manicomio spacca un peso perché poi appunto non poteva c'è un zonco prendi la batteria e cristo si ora appena prendi la nostra faccicolo leggilo però controllo il c***o il c***o secondo le disposizioni il c***o 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 la 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 x ci sta oh ma non devi visitare c***o 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 eccesso c***o c***o mi chiamo ma sicuro tu la batteria è la mia lì ok ora lei va la ma questo è spuntato questo c***o ma se tu che stai facendo lo schifo per terra come va è vero ho 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 in carattina allora c***o guarda la c***o ho ancora è morto è morto c***o c***o ciao no tutti sveglia c***o ci sono le batterie ssh c***o 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 ti sei andato dentro il camion sarà uscito dal tetto vi giuro l'avrei fatto che era la cosa più normale che era da fare in costi di cazzo ma l'abbia visto anche lei? l'abbia visto? non c'è nessuno a lei allo poi ci sarà entrata in qualche modo è largo quanto c'è esso ma mi stai tagliato a pezzo ci sarà entrata la stessa cosa guarda quando si scarica ma io devo vedere ma ci vedi? la vedenzia non mi ha visto i battenzi qua c'è una porta c'è quello lì seduto sono tutti morti che piccolo si vabbè ce ne sono troppi qua è boss battle ma che boss battle non puoi combattere è un indie sono morti che piccolo abbassati abbassati fai shift oh che piccolo si svegliava di inciugno si svegliava e ti mangiava il cazzo no levala levala oh oh lei non era mai le luci del computer mi sento vabbè questo è l'umore che fa il pavimento madonna vabbè guarda quanto si scarica stai prendendo levala 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 oh un fascino nessuno c'è levala la telecamera madonna 32enne maschile dottor rudolfo motore motore sconsiglia motore mortogenico mortogenico ma che cacchio vabbè vai avanti vai mutilazioni auto inflitte si adesso è indispensabile tenere legato a walker durante il colloquio ah questo si ammazza mentre c'è il colloquio vai avanti vai vai che piccolo effettivamente vabbè ma stai colpi di musica così cosa vai entrala entrala batteria ma la videocamera la videocamera sarà una cosa che ti salverai ti salverai perchè quando finira c'è scovizio devi levarla lascia quella cazzo ma non si scarica ma come no ma guarda ce l'hai più di più di ma si scarica solo quando attivi la minchia no ma anche quando si sa qua aspetta io la lascio così in questo punto qua ma ti capisco guarda ma ti capisco guarda che non armi ci arriva lì ma c'è un becce che tipo vedi quando l'attivi vedi che scada cojone ma la stessa cosa che ti capisco e no e no mi dice pure di sbirciare sbircia il cazzo ora qua c'è uno eeeh tieni il pene vuoi il pene guarda che cazzo eccolo vai 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 devi andare la guarda la siderotella guarda la siderotella tu guarda no no tu guarda questa guarda questa guarda la siderotella guarda la siderotella ahahah ahahah ma vai avanti vai la la siderotella prima che ti scompare ti appare davanti e ti metto un dedo nell'anno no quello si muove ma questo è l'unico amico che troverai questo male di pop vai avanti mi fa pure il respiro vai inchiaa non ti dice niente lo vedi con morto il mare ma non ti dice niente lo vedi con morto il mare vai 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 non ti dice niente se non lo vedi manco può respirare voraggio poi ci dico che piccolo ma va che schifo ma non mi giro perchè mi mi tappugni entra la e devi entrare qua ma mi spaventare di più di quelle che ti vengono da lì appunto i figli tuoi queste sono belle ma queste che stanno quello del film ma che schifo no mi hai mai chiudo la porta e quello è ti conviene perchè devi uscire ora apri la porta apri la porta te ne vedete 5 minuti abbiamo noi 15 minuti mi hai fatto tutti i 5 minuti qua ma questo che cazzo hai fatto ma cos'è un argoniano wow che carino mi chiedo tanto di una stessa ma sei visto sta salvando sta salvando sta salvando e tu e qui che cambiamo il giocatore gioco io gioco ho Alessandro devi scendere tu perchè mi fai scherzo le tre quando a piappo è 5Е Alessandro guardate però devi giocare tu Grazie a tutti.